Promovete nel vostro paese l'incontro tra le culture e il dialogo tra le religioni, senza rinunciare alla verità rivelata dal Signore. È l'esortazione che Papa Francesco rivolge ai Viscovi del Benin, ricevuti in occasione della loro visita ad Limine Apostolorum. Nel discorso consegnato, il Pontefice invita i presuli a preservare l'armonia tra le diverse confessioni, soprattutto nell'attuale contesto mondiale, e a diffondere i valori evangelici dell'accoglienza. Mettendo a fuoco alcune sfide per la Chiesa locale, la pastorale della famiglia, l'educazione del popolo di Dio e l'attenzione ai giovani, Papa Bergoglio mette infine tutti in guardia dal dilagante spirito di secolarizzazione. Solo una fede profondamente radicata nel cuore delle persone e concretamente vissuta, si legge, potrà rispondere alle aggressioni mediatiche e ideologiche in atto.